Queste sono le torte, questi tutti gli articoli di giornale in cui loro sono apparsi, ma soprattutto la cosa che le ha reso famosa Magnolia sono le cupcake. Eccoci qua, queste sono tutte le cupcake che loro offrono, qua ci sono tutte le magliette pese, questa è la pecina e qui ci sono altre cupcake. Queste sono cupcake, queste sono cheesecake. Ah, queste sono cheesecake, scusatemi. Cheesecake, wow. Quindi c'è la Panty Cheesecake, Key Lime Cheesecake, Caramel Pecan Cheesecake e questa è Original Cheesecake. Questo è un paradiso dei golosi, parlando di paradisi. Questa è quella che vuole prendere Luca, gli serve per stare leggeri, con banane, ananas, noci piccam e cream cheese. E lei sta preparando il frosting da mettere sopra le cupcake, vedete le cupcake sono appena sfornate. Ecco che sta mettendo il frosting sulle cupcake. Beh, guardate che brava che è. Wow, grazie. Ciao Italia. Ciao, ciao. Buongiorno a te. Bravissimo Italia, ma è novia.